I giudici di gara per darci poi il punteggio che a mio avviso sarà La Chiele nella fase centrale della sua corsa Il passo dello scatenato Lazzaroni che con 91,2 è ovviamente il primo metodo al comando delle operazioni tra l'Utubo e l'Inse a Cia Tazza e il scatenato Lazzaroni Sfrenato per la leva del primo a mano anche lì solo per l'Iniziano abbattato Come ha fatto il vincitore di questa altrettanto efermescente di sfida così come l'è stata prima Non c'è spazio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.